Fa tappa a Padule, dopo aver toccato altre frazioni del territorio gubino, il progetto di informazione Questa è violenza, forme di violenza e strumenti di tutela, promosso dal Comune di Gubbio, Commissione Pari Opportunità, Associazione Il Coraggio della Paura e Lions Club per affrontare il tema della violenza sulle donne. Nell'ambito del programma della settimana padulese che ruota intorno alla festa di Santa Maria Ossigliatrice, l'incontro ha voluto far conoscere gli strumenti a disposizione delle donne, per tutelare se stesse, per denunciare abusi e soprusi o semplicemente per parlare di un disagio che le coinvolge o che riguarda loro congiunti. Presenti la vice sindaco Rita Cecchetti, la presidente della Commissione Pari Opportunità Rita Pagnozzi, l'avvocato Francesca Pieri per l'Associazione Il Coraggio della Paura e Giorgio Mancini per il Lions Club. Il progetto itinerante che prima della pausa estiva aveva fatto tappa a Casa Morcia nasce dalla volontà di avvicinare quante più persone possibili e di raggiungere le periferie che potrebbero restare ai margini per poca conoscenza dei servizi a disposizione sul fronte antiviolenza. A Gubbio, in particolare presso la sede dei servizi sociali in Via Cavour, è presente un punto d'ascolto aperto il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 18, dove potersi rivolgere laddove se ne abbia la necessità. Il numero di telefono è lo 075 923 7513. Il punto di ascolto si rivolge non solo agli utenti di Gubbio, ma tutte le donne vittime di violenza e maltrattamento residenti o domiciliate nella zona sociale 7. Le iniziative, come quella di Padule, rientrano nel mandato 2018 della Commissione Pari Opportunità che si è impegnata a pubblicizzare sul territorio l'apertura del punto di ascolto, oltre che a realizzare iniziative da concertare con gli istituti scolastici, finalizzate ad educare alla costruzione di una cultura della non violenza e all'analisi e al superamento degli stereotipi di genere.